Un'ora o poco più per raggiungere il mare, la recente apertura della quadrilatera accorcia i tempi e cambia anche il flusso turistico dall'Umbria alle Marche, investendo di nuovo interesse anche la costa maceratese. I primi segni sono arrivati già dall'estate scorsa, come conferma Paolo Giorgini di EcoCittà Management a Porto Potenza Picena, una realtà che ospita appartamenti e servizi a pochi passi dalla spiaggia, in via di realizzazione il nuovo complesso Cubo Casa. Possiamo confermare che anche noi abbiamo registrato un interesse da parte dei nostri vicini Umbri, dell'entroterra, quest'estate soprattutto abbiamo registrato sia un afflusso maggiore di turisti che un afflusso anche maggiore di potenziali clienti che sono venuti a prendere informazioni grazie appunto a questa nuova infrastruttura che rende molto più agevole, veloce e se vogliamo anche sicuro il tragitto dall'entroterra alla costa triatica e quindi comunque per noi al di là del tutto è un'ottima infrastruttura ed è utile per l'economia locale. C'è interesse per la costa maceratese ma nel dettaglio anche su Porto Potenza Picena? Sì sì assolutamente sì, abbiamo fatto molti incontri con persone diciamo della zona del Perugino piuttosto che di Spoleto che sono interessate a valutare l'acquisto della seconda casa al mare sia perché comunque Porto Potenza da un punto di vista turistico offre delle attrattive ed è interessante sia per la qualità della vita che diciamo per i benefici che ci sono in questa piccola cittadina che comunque ha ottime qualità e anche un costo della vita abbastanza contenuto. Parole d'ordine, riqualificazione, risparmio energetico e qualità. Il nuovo quartiere residenziale nasce dalla riqualificazione di un'ex area industriale. I cappannoni ormai in disuso sono stati sostituiti da verde, nuovi appartamenti e servizi. Andiamo a recuperare un'area che era già esistente, non consumiamo nuovo terreno agricolo. Prima c'erano 300.000 metri cubi di cappannoni, abbiamo diminuito drasticamente le volumetrie, e la stiamo convertendo e quindi stiamo cercando di realizzare un quartiere a misura d'uomo sia da un punto di vista energetico ed efficiente che anche da un punto di vista della qualità della vita. Le nostre strutture sono sicuramente all'avanguardia sia da un punto di vista della costruzione piuttosto che anche della qualità degli impianti energetici. Tutti gli edifici sono in classe energetica A e quindi abbiamo rilevato anche l'attenzione dei clienti che sta crescendo sempre di più relativamente a questi aspetti, il cliente è sempre più consapevole per quelli che sono purtroppo gli ultimi accadimenti locali, anche da un punto di vista strutturale, logicamente le nostre costruzioni sono tutte nuove e quindi rispettano a pieno la normativa antisismica e pertanto sono anche più sicuri. Opportunità per tutte le tasche e per le necessità anche da la casa al mare fino alla prima abitazione? Sicuramente il mercato immobiliare non sta attraversando un bel periodo, ci sono dei segnali di ripresa, soprattutto nel 2016 abbiamo registrato dei buoni segnali di ripresa. Cerchiamo di essere competitivi nei prezzi e di andare a ricoprire la più alta gamma possibile di prodotti da 99 mila euro, logicamente, fino ad arrivare a budget ben più alti. realizziamo sia la tipica seconda casa al mare, molto essenziale, fino ad arrivare a quadri locali, appartamenti ben più ampi e comunque a budget più elevati.